Voghera è pronta a diventare il polo sportivo dell'Università di Pavia, l'ha detto il sindaco Carlo Barbieri in occasione della prima visita del rettore dell'Ateneo Pavese Fabio Rugge alla Facoltà di Scienze Motorie. Una visita voluta per conoscere meglio la sede di Staccata che ospita oltre 200 studenti, oltre al centro di medicina dello sport e al laboratorio di ricerca per le malattie rare, ma anche per promuovere il progetto di finanziamento di Sport for Therapy sviluppato proprio a Voghera ma con possibili ricadute a livello perlomeno nazionale. Ho tardato troppo a venire a Voghera e adesso vedo che si tratta di una struttura questa molto all'avanguardia anche come macchinari, so che è una struttura che funziona bene dal punto di vista del servizio alla formazione e quindi sono molto soddisfatto di questo, esploreremo delle possibilità di far crescere questa realtà, oggi sono qui per sostenere un progetto di crowdfunding, cioè di sostegno da parte della gente alla ricerca, l'idea è che lo sport possa aiutare nella terapia, non solo nella prevenzione e non solo nel divertimento. L'idea che Voghera sia un punto di riferimento di questa dimensione molto importante per l'Università di Pavia è un'idea fondata. Il Comune dunque ha salutato con entusiasmo l'arrivo del Rettore come un passo verso il consolidamento delle attività universitarie in città, una possibilità di sviluppo concreta per Voghera. È una scommessa che è stata fatta anni fa e che oggi la ripresentiamo. La Facoltà di Scienze Motorie, il centro di medicina sportiva, oggi unico centro di medicina sportiva dell'Oltrepo accreditato in Regione Lombardia, è una realtà. Oggi è stabile la Facoltà di Scienze Motorie con un numero di studenti importanti che superi 300. Adesso è il momento di cambiare marcia e di cercare di incrementare quello che è stato fatto, per guardare al futuro ancora con maggior progettualità. Ha partecipato all'incontro anche il prefetto di Pavia che ha poi appoggiato l'ipotesi di destinare strutture inutilizzate come l'ex tribunale agli studenti. Avendo sentito il magnifico Rettore che ha questa assoluta apertura nel portare anche in questo territorio facoltà che non devono essere un doppione di quelli presenti presso l'Università a Pavia, mi auguro che si possa trovare la strada giusta.